Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube da una struccata e che si è appena lavato i capelli. Non può mancare nei miei video, diciamo, una parte fondamentale di questa famiglia che ha deciso di stare qui, qui là. Ecco, quindi sappiate che adesso io vi posizionerò qui, insomma qua, qua da qualche parte per filmare, ma qui sotto abbiamo Mr. Lilla che ha voluto appositamente una sedia tutta per lei per stare qui accanto a me durante la registrazione di questo video. Ciao a tutti, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube da una nannina che, come sempre, ha i vestiti da sistemare nell'armadio. Il bello è che i vestiti sono qua, cioè nel senso, li appoggio sempre qua, e vanno messi nell'armadio. L'armadio è questa struttura che voi vedete dietro e, come sempre, io non metto mai a posto nulla. Allora, innanzitutto, vedete, mi sono appena lavato i capelli, quindi è la sensazione che adoro sempre tantissimo. Quando mi lavo i capelli, perché sono tutti puliti, lisci, profumati. Questi sono i miei capelli naturali, senza piastra, senza... cioè proprio asciugati con il fondo. Infatti sono un po' un pulcino, però mi piacciono un sacco, cioè li adoro tantissimo. Oggi proveremo il mascara di Duda Beauty. Zio? Amore? Cucciolo? No, però non è che pago... Allora, speriamo sia visto qualcosa. E me l'ha chiesto una ragazza se gentilmente potevo provarlo, giustamente ve ne ho parlato, ma non ve l'ho fatto vedere indossato, perciò oggi lo vedrete indossato, ma parleremo di altro, la coerenza mia. E comunque poi andremo a mettere nelle ciglia inferiori il Bad Gal Ben di Benefit e il mascara di Dior. Ok, bene. Allora, ho deciso anche di mettere l'azzurro dalla palette di Chiara. Questo colore qua. Perché mi è piaciuto tantissimo, l'ho provato in un video e mi è piaciuto tanto. E ho anche un sacco di cose da raccontarvi, quindi direi che assolutamente possiamo iniziare subito. Visto che appunto ho appena lavato i capelli, sapete che io utilizzo queste. E le vado a mettere subito in modo tale che tengano i capelli lì a posto. E non lasciano il segno della molletta o della piega che avete fatto, perché rimangono fermi lì, come li vedete. Allora, in questo momento sono completamente struccata, non c'ho nulla. E andrò semplicemente a pettinare le sopracciglia, a mettere l'ombretto e il mascara, fine. Allora, cosa ho da raccontarvi oggi? Un sacco di cose, come sempre. La mia pelle in questo periodo è proprio un pozzo, non so, cioè è secchissima, non so perché. Però vabbè. Oggi usiamo questo, Mister Amico, dato che non lo uso da tanto e l'altro in questo momento non lo voglio utilizzare. Allora, innanzitutto, che succede? Allora, intanto vi chiedo assolutamente scusa, perché in questo periodo, nel mese di febbraio, non sono usciti i video tutti i giorni. E questa cosa io non ve ne ho mai parlato, però mi ha fatto un sacco soffrire. Perché non avevo la possibilità di raccontarvi proprio tutte le cose per una ragione o per un'altra. Dall'altra parte stavo male, oltre che magari dentro di me anche fisicamente molto, e ora capirete perché. E quindi non sapevo come esprimervi. Poi stavo facendo un sacco di cose in quel periodo che non avevo neanche il tempo di rispondere ai messaggi, in generale, su qualsiasi social. Quindi figuratevi se avevo il tempo di mettermi e raccontarvi le cose, fare un video a parte. Poi non so se avete visto, spero non si sia notato più di tanto, anche se ne dubito. Ma negli ultimi video ero un pochino più, come posso dire, mogia mogia, un po' spenta. Non avevo la stessa energia o carica di Annina come sempre, diciamo così. Che ora c'è, assolutamente. Anche per un fattore di YouTube, nel senso che mi ero un pochino spenta. Devo essere sincera, devo dirvi la verità. Poi che cosa è successo? Un po' di una settimana, più o meno una settimana fa, ci siamo beccati tutto il Covid. Tranne mio papà, per fortuna, anche se avrei preferito prenderlo solo io e non nessun altro della mia famiglia. Che cosa è successo? In poche parole, è successo che mio fratello, in classe sua, sono risultati positivi, tipo in nove. E quindi, per carità, mascherine, distanziamento e tutto, però se l'è beccato per la terza volta. E quindi ho dovuto lasciare tutto quello che stavo facendo nella mia vita di super speciale e importante. Appunto per questo motivo sono stata molto male, molto. Anche adesso non sto bene, però sto cercando un po' di riprendere le energie, se si può dire così. Cioè, nel senso, sto cercando di, per quello che posso, essere forte, ricaricare le batterie, parlare con le persone che mi fanno stare bene, fanno stare bene il mio culicino, eccetera. Quindi diciamo che un pochino, almeno fisicamente va meglio, moralmente no. E ci sono successi un po' di tutto, quindi anche per questo ero giù, tante cose, eccetera. Adesso, cosa ho da dirvi? Io sono molto felice di essere sul canale. Siamo cresciuti ancora, non tanto, ma un pochino sì. E ne sono super felice. E vado a mettere Sisterhood e Bling Bling dalla palette di Chiara Ferragni, quella non uscita. E sono molto contenta, veramente molto contenta. Questo periodo comunque mi è servito, sono stata molto male, questo non ve lo nego. E non avevo neanche la voglia, diciamo, di fare i video. E anche per questo, in realtà, comunque, che non sono usciti i video tutti i giorni, perché comunque non stavo bene. E quindi, adesso, non vorrei dire, però, potete immaginare quanto fosse Power, la mia voglia di fare video con la febbre a 39-40. E i muscoli che non funzionano, poi cosa c'era? I muscoli che non funzionano, il corpo che non risponde, non riuscivo a respirare, questo sempre, mamma mia. La gola era andata col paese, infatti anche adesso faccio un pochino fatica a parlare. Quindi diciamo, in realtà, molte cose. Ma ora sono qui, sono tornata, ci sono. Una cosa che vi volevo dire anche, che mi è piaciuta tantissimo, e voi mi fate sempre riflettere un sacco, cosa che adoro. Ma vi ho sempre detto che siete il pubblico che ho sempre cercato. Allora, praticamente, una ragazza mi ha scritto, grazie a Nina, perché i tuoi video mi fanno sempre compagnia, anche mentre mangio, così. E poi mi ha detto, è come se fossi una mia amica. Cioè, sono sempre con te. Non mi ricordo il nome, perché leggo tanti dei vostri commenti. Quindi scusami se non mi ricordo il tuo nome, ma mi ricordo che me lo ha detto. Vi giuro, sono rimasta contentissima. Cioè, proprio mi ha aperto il cuore di gioia con quel commento. Perché è proprio il mio obiettivo. Cioè, io non voglio essere nessuno. Io voglio essere me stessa, voglio essere a Nina, farvi compagnia, stare insieme a voi. Quindi, cioè, sono molto felice se questa cosa funziona, se riesco nel mio obiettivo. Ma proprio super, super felice, molto contenta. E sono mega felice che lei me l'abbia scritto. Questo era un ragazzo, perché me lo ricordo. Era tipo Emanuele, Samuele, una roba così. Mi ha scritto, grazie a Nina, perché anche se hai mille iscritti, metti sempre like ai commenti. Cioè, chiaramente poi, non è che posso, non ho moltissimo tempo, quindi, chiaramente poi non passo tutta la giornata a rispondere a ogni singolo commento che fate. Perché se no, ovviamente sarebbe impossibile anche per me, chiaramente. Però, diciamo, il cuoricino, per farvi capire chi ci sono, che sono vicino a voi, che l'ho letto in generale, lo lascio assolutamente sempre. Ma mi fa anche un sacco piacere, cioè, sono molto felice di farlo. E questo ragazzo mi ha scritto, grazie, perché mi fai sempre sentire a tuo agio con i video. Perciò, grazie, cioè, sono molto felice se è così davvero. E poi mi ha detto, grazie, perché, appunto, nonostante tu abbia mille iscritti, quindi, insomma, chiaramente non ho un seguito molto grande, lasci sempre il cuoricino. Ma, secondo me, è obbligo, cioè, è il minimo. Cioè, dopo tutto quello che fate nei miei confronti, o comunque il comportamento che avete nei miei confronti, cioè, secondo me, è una cosa, cioè, come minimo che lo faccio. E invece, magari, non tutti lo fanno, è una cosa che per me è scontata, ma perché per altre persone, probabilmente, non lo è. Però, sono molto felice perché, vi ripeto ancora una volta, siete proprio il pubblico che ho sempre sognato, o comunque la community di persone che mi sono sempre, sempre, sempre immaginata esattamente così. Poi, se un giorno ci saranno episodi brutti o cose, chiaramente, eh, lì, succede a tutti, sono umana, non posso piacere a tutti, è ovvio. Però, ricordatevi di pulire sempre anche questa parte qui, del piegaciglia, che a forza di piegare, fare ombretti, mascara, si può sempre sporcare. E' bene tenerla sempre in ordine, bella pulita. Adesso, non so neanche cosa sto dicendo, dopo quando monto i video, dico, ma cosa ho detto mentre mi truccavo? Perché o guardo io che mi trucco, o guardo io che parlo. Però, in realtà, riesco a fare entrambe le cose, quindi sono sempre un po', ma cosa sto facendo? Vabbè, ve lo dico perché adesso so che vi racconterò delle cose e non guarderò più. Allora, non ho fatto neanche fallout, zero, top, benissimo. Allora, nelle ciglia superiori metterò Uda Beauty, entrambi gli scovolini, ok? Nelle ciglia inferiori metterò il Bad Gal Ben di Benefit e poi, per completare un po' il tutto, metterò questo qui di Dior, Dior Show Iconic Overcurl, questo qui, ok? Quindi sappiate cosa ho utilizzato, lo sapete già. E quindi vedrete anche l'effetto finale sulle ciglia. Allora, cosa vi volevo dire? E quindi appunto mi scuso veramente tantissimo per questa assenza o comunque per questo momento che c'è stato. È stato un mese anche molto importante, ho fatto 18 anni, ci sono tanti progetti in corso, sono molto spaventata. Insomma, ci sono tante cose che hanno preso piede e fanno parte della mia vita soltanto però da febbraio, gennaio, insomma, questi ultimi mesi. E quindi non è nemmeno semplice per me, capito? Per questo vi chiedo un po' di comprensione e di scusarmi se non tutti i giorni sono usciti i video e se i video che sono usciti non ero, diciamo, al top del top o comunque ho fatto di meglio sicuramente. Anche se comunque ho ricevuto dei commenti positivi, quindi sono molto felice di questo. Allora, poi vi volevo raccontare un'altra cosa, ovvero che questi giorni ho riflettuto molto sul concetto di famoso, perché praticamente in una discoteca qui da queste zone io ho scoperto ieri sera, cioè proprio una cosa tipo l'ultimo minuto, che sarebbe venuta una persona che ha una certa fama. Però poi, e quindi ho detto cavoli, a parte che sono andata in vita mia soltanto una volta in discoteca, però vabbè, ho detto cavoli sarei potuta andare a vedere questa persona, eccetera eccetera. Per cui ho detto cavoli è proprio, insomma, in una zona qui, potrei andarci. Poi ho riflettuto, ho pensato, ma se tipo tu l'avessi saputo, metti un po' di ore prima, un po' di giorni prima, avresti comprato la prerendita? Saresti andata in quella discoteca per quella persona famosa? Insomma, mi sono fatta qualche domanda. La risposta è stata assolutamente no. Cioè io sono rimasta scioccata, perché comunque questa persona ha fatto delle cose che assolutamente no, eccetera. Cioè veramente a volte, ne parlavo anche l'altro giorno con una ragazza di voi che mi segue su WhatsApp, mi dispiace che certe persone abbiano fama, diciamo così, senza però aver fatto qualcosa di veramente speciale o senza veramente lasciare dei principi, dei valori. Cioè abbiano fama così, perché ce l'hanno, perché sono delle persone conosciute. La cosa che ho imparato e che ho ricordato a me stessa è che se una persona è famosa non significa che sia una brava persona. O non significa per forza che sia una persona vera, sincera, umile, gentile. Qualità e doti che io associo quasi sempre però a una persona famosa. Perché dico è famosa, cioè le do come per scontate queste cose, invece assolutamente no. Quindi piego. Lì per lei dici, wow, c'è questa persona in discoteca, cavoli. Però mi ho fatto ripetere tantissimo questa cosa. Una persona, se è famosa, non per forza significa che è una brava persona. O in generale mi ha fatto veramente pensare tanto, 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 tanto. E questo comunque è Uda Beauty. Adesso andrò a indossare anche un po' degli altri. Però questo è l'effetto finale di Uda Beauty. C'è un po' di ombretto ma è molto chiaro, quindi si vede. Allora, non so se mi sono riuscita a spiegare, spero di sì. Però il concetto, quello che vi volevo dire è appunto questo. Io non sarei andata, sarei andata soltanto per dire toh, c'era questa persona famosa, capito? Però non sarei andata per altri motivi. Quindi devo cercare di ricordare, perché ci sono veramente tante persone che sono ok famose, però veramente mi fanno una rabbia perché dico, cavolo, si comportano in un certo modo. Sono, hanno dei comportamenti che anche soltanto magari vedendo un loro contenuto per uno o due minuti capisci che persona è, eppure hanno un seguito molto molto grande. E poi magari c'è chi si impegna, fa di tutto e non ha un seguito. Quindi sono cose che mi fanno sempre pensare, a volte mi fanno stare male. E vabbè, fa parte anche questo della vita. Comunque, niente, volevo soltanto condividere con voi questa riflessione. Poi, il carnevale è passato, non so nemmeno come. Non so nemmeno come siamo arrivati a marzo, che per me è passato capodanno da poco. Ecco, i miei 18 anni non li ho ancora festeggiati, ma assolutamente li voglio festeggiare, questo va come sicuro. E volevo anche parlarvi dello speciale degli indescritti, che ho provato a registrare il Draw My Life, come vi avevo promesso. Non è che dico le cose e poi faccio quella preziosa, oppure vi prendo in giro. Cioè, veramente, sarebbe stato quello speciale, più la settimana di ASMR particolari. Soltanto che quella ci sto lavorando, appunto, in questo periodo. Solamente che ho provato a registrare il Draw My Life, qualche giorno fa. Non mi è piaciuto bere niente come è venuto. L'ho registrato metà, poi ho pensato a quelli che ci sono su web, ho detto questo fa schifo e sono rimasta un pochino triste. Perciò, quello lo rimanderò a quando avrò un po' più di seguito e potrò contattare delle persone che mi aiutano a farlo. Perché da sola non ce la faccio. E la settimana speciale degli ASMR la farò in questi... Non so adesso quando, di preciso. Però non vedo l'ora... Cioè, la farò senza che ve ne accorgiate, in pratica. Mi usciranno dei video magari un po' più speciali del solito. E quelli io li terrò, li considererò, appunto, come speciale, diciamo, per primi gli iscritti. Insomma, comunque farò qualcosa di bello e magico, sicuramente. Vi prego, lasciate che ve la mostro un attimino. Allora, non so bene cosa vi ho detto nel corso di questo video. Guardate che bello quello sfondo, cavoli. Non so bene che cosa vi ho detto nel corso di questo video perché vi ho detto tante cose, come niente. Spero di essermi spiegata bene anche il concetto quello lì di famoso e sì, di credere sempre in noi stessi. Io sono per voi come se fossi un'amica, quindi potete, nella mail, anche questi giorni vi sono arrivate delle mail, quindi grazie per chi me le ha scritte. Sui messaggi privati, dai di Instagram, su WhatsApp, nei commenti di YouTube, sapete che mi trovate sempre. Niente, questo è il look terminato. Spero vi piaccia, chiaramente sono dei mascara validissimi. Però era anche un motivo, una scusa, insomma, diciamo, per stare in compagnia. Chiaramente io sono più carica che mai. Questo video l'ho fatto anche per farvi capire che ho bisogno del vostro supporto più che mai, soprattutto in questo momento. Per ripartire più carica e più forte che mai, questo assolutamente. E niente, adesso vi faccio fare un saluto a Lilla e mi dispiace salutarvi, ma sto per fare altre cose e ho molte cose nella testa e quindi carichissimi, perché anche quest'estate non vedo l'ora che arrivi. Lilla, scusami, un attimo. Scusate se ha un po' la faccia da sonno, ma ha dormito fino ad adesso. Io e lei... Cioè, ti rendi conto che mette a fuoco te e nemmeno me? Io e lei vi salutiamo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lei ha fatto la nanna, adesso farà ancora nanna qui. Insieme a me? Vi mandiamo un bacione? Anche tu, cavolo. E ci vediamo, chiaramente, tutti i giorni, come sempre, alle due di pomeriggio, ogni tanto alle sette di sera. Grazie per il supporto e mi raccomando, sempre, sempre. Sì, certo, tu sei la contessa. Giusto, russa adesso. Ciao, grazie per essere stati con me in questo video. Ciao! Ciao! Dormeni! Grazie.